ciao ragazzi e bentornati su land of rust il podcast di riferimento delle informazioni videoludiche di genere survival horror e qui è sempre daniele che vi parla allora vi avevo promesso uno speciale videoludico a sorpresa questo speciale è arrivato e si tratta di transient transient che è questa avventura in prima persona misto cyberpunk misto lovecraft sviluppato da stormling studios e pubblicato da iceberg interactive è una speciale sorpresa perché il gioco esce proprio nella giornata di oggi e quindi diciamo ho l'occasione più unica che rara diciamo la prima volta in assoluto per il podcast di fare uno speciale su un videogioco che esce il giorno stesso della release e in contemporanea anche con con le recensioni delle testate videoludiche quindi sono molto contento di questo di questa di questo lieto evento e devo fare quindi un enorme ringraziamento innanzitutto ad iceberg interactive che mi ha dato la possibilità di poter provare questo gioco in anteprima e di poterlo così analizzare e quindi fornire così indicazioni il giorno stesso della release e in secondo luogo devo ringraziare giulia che mi ha prestato gentilmente il suo pc dato che con il mio non avrei potuto assolutamente giocare a transient e quindi grazie 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 a giulia ok possiamo cominciare e vi ricordo che il presente speciale è privo di spoiler e il presente podcast contiene scene violente e sanguinose transient è ambientato in un futuro distopico in cui la razza umana si è quasi del tutto estinta ed è concentrata all'interno di una sorta di città a fortezza che non è altro che la versione futuristica e cyberpunk della città di providence e già da qui un riferimento a lovecraft più che evidente il protagonista si chiama randolph carter ed è un individuo che fa parte di un gruppo di talentuosi hacker che si occupa spesso di fare furtarelli informatici ai danni delle grandi aziende grandi aziende che tipico del cyberpunk sono al comando della città cosa succede quindi che randolph comincia a fare degli strani incubi e si ritrova nei panni di una misteriosa razza aliena all'interno di un mondo popolato da costruzioni in mega megalitiche e dove una voce sembra guidarlo verso una verità scioccante e terrificante di lì a poco randolph scoprirà che quegli incubi non sono frutto del caso e che questa verità comincerà a manifestarsi sempre più violentemente e portando così il nostro eroe a non capire più cosa è vero e cosa non lo è inizierà così un viaggio fatto di visioni oniriche viaggi cyber spaziali attacchi hacking e quant'altro insomma un autentico frullato in cui gli elementi sia tematici soprattutto estetici del movimento letterario del cyberpunk si mostreranno di pari passi con le vibrazioni emotive con il mix di disagio e meraviglie tipico di tutto il mondo di howard philippo lovecraft e vi dirò devo dire non so per quale motivo ma la mia aspettativa era che i due macrocosmi che sorreggono la trama di transient cioè appunto cyberpunk da una parte e lovecraft dall'altra mi aspettavo che venissero veramente mischiati e miscelati totalmente e invece invece non è così perché come ho parzialmente accennato nella sinossi tutti gli aspetti tipici del cyberpunk sono appannaggi del mondo reale mentre invece la parte lovecraftiana diventa dirompente nella dimensione che più vi compete cioè parliamo chiaramente della dimensione prettamente più onirica transient quindi non è altro che una sorta di conflittualità in cui due realtà vanno a scontrarsi e il povero randolph carter rappresenta il tipico protagonista lovecraftiano randolph infatti è un uomo che combatte e resiste non perché deve dimostrare qualcosa ma perché è nell'istinto dell'uomo quello del del conoscere e l'ardire ciò che è celato e peggio ancora se si è proibito poi tra l'altro il problema è che più si avvicinerà alla meta finale più la sua sanità mentale ne risentirà pesantemente ebbene dopo questo mega pippone cercherò di spiegarvi in breve cosa ne penso della trama di transient e trama che in generale mi è piaciuta molto soprattutto mi è piaciuta questa rappresentazione simbiotica tra il mondo cyberpunk il mondo lovecraftiano e mi è piaciuto anche che hanno voluto tenerli un pochino separati perché infatti vi dicevo prima la mia aspettativa è che fossero miscelati invece no sono stati tenuti separati e ben distinti perché effettivamente parliamo di due mondi che presentano stili regole e tempi davvero molto diversi e mi è piaciuta questa età di fondo di stormy studios di creare entrambi i mondi ma di non fonderli completamente perché così evidenziato maggiormente la tua la tua la dualità dei due universi e soprattutto ha mostrato come randolf sintesi interfacci con essi mi è piaciuto anche il mondo il modo di esporre la trama da parte di stormy studios grazie alla presenza di elementi spesso non sempre chiari e che spingeranno il giocatore a elaborare un minimo di interpretazione parliamo quindi insomma di una direzione narrativa abbastanza curata e per nulla lineare più volte infatti ci ritroveremo a dover recuperare vari tasselli e fare dei collegamenti su quanto assistito fino a quel momento una soluzione quindi che contribuisce a creare abbastanza senso di intrigo e attrattiva almeno per me per non parlare poi della della moltitudine di omaggi e riferimenti all'off cartellamente stormy studios sono non è un non è un mistero cioè i membri del team già con con il loro precedente lavoro con arium avevano già dimostrato la loro enorme passione e ammirazione nei confronti dello scrittore di providence e anche con transient non si sono smentiti questo perché fascino mistero scoperta senso di meraviglia senso di alienazione ci sono tutti non manca niente l'unica cosa dove secondo me il team poteva fare di più forse è il protagonista nel senso che randolfo non mi ha trasmesso quel senso di angoscia follia e disperazione tipici del del protagonista di lovecraft in un qualsiasi racconto di lovecraft mi è sembrata insomma una caratterizzazione un po troppo ordinaria ecco mettiamola così non mi ha lasciato un gran segno dirla tutta perché randolfo man mano che avanza farà diverse scoperte anche molto forti dire il vero però difficilmente trovato situazioni che mi hanno lasciato di sasso ecco difficilmente quindi ho provato pena e apprezzione per randolf per randolf carter per carità non dico che è un protagonista pessimo però diciamo è un po troppo lontano dal protagonista standard di lovecraft per il resto trovo la storia affascinante intrigante e ben ritmata non particolarmente originale in realtà perché comunque la costruzione la messa in scena le ho trovate più che sufficienti alla fine certo parliamo comunque di un gioco prettamente story driven dove tutto vada attorno al protagonista e agli eventi che gli assiste tutto qua non aspettatevi quindi cose mirabolanti ma aspettatevi una storia che potete seguire con discreto rilassamento quasi come se stessi leggendo un libro concludendo quindi diciamo che transient in sostanza ha soddisfatto quelle che erano le mie aspettative mantenendosi quindi su livelli sicuramente non clamorosi ma che ma che fa dell'incontro tra cyberpunk e lovecraft alla sua caratteristica principale quindi se siete amanti di entrambi i generi direi che potete tranquillamente dare una chance all'ultima opera a firma di storming studios e prima di iniziare a parlare del gameplay faccio subito una doverosa precisazione per evitare fraintendimenti o quant'altro insomma alla transient non è un survival horror in quanto nemici non ce ne sono e non c'è una lotta per la vita e l'intento non è quello di spaventare il giocatore insomma sono presenti alcuni momenti abbastanza tesi che possono un po alienare e straniere il giocatore ma non rappresentano comunque l'aspetto principale del gioco che in realtà è un thriller psicologico di stampo fantascientifico questo perché passeremo parecchio tempo a investigare esplorare e seguire la trama e questa è una precisazione che era doveroso doveroso fare perché appunto magari uno compra un gioco attente attendendosi determinate dinamiche determinate caratteristiche che poi di fatto non ci sono ecco e chiudendo quindi questa questa premessa sappiate insomma che transient non è un survival horror all'amnesia o alla pt ecco proprio perché la componente sopravvivenza è del tutto assente e perché la componente orrorifica si presenta in funzione decisamente diversa da dai soliti survival horror mettiamola così e il gameplay di transient di base segue il modello classico dei videogiochi di avventura in cui lo scopo del protagonista è cercare informazioni e cercare elementi utili al fine di poter superare gli ostacoli che il gioco ci pone di fronte tutto qua parliamo di fondo di un gameplay che sostanzialmente come dicevo prima ma è un gameplay story driven quindi un gameplay servizio della trama e fortunatamente però transient in termini ludici presenta anche delle soluzioni che consentono al giocatore un'esperienza di gioco piuttosto varia e diversificata nel gioco infatti randolph potrà affidarsi a un particolare strumento chiamato phi phi che gli consentirà di eseguire delle analisi delle scansioni dell'ambiente circostante in una modalità che ricorda parecchio le azioni che faceva daniel lasaschi in observer di blober team se avete giocato observer insomma non avrete difficoltà a familiarizzare con il phi di transient perché parliamo comunque di una componente di gioco piuttosto semplice e intuitiva è proprio come in observer quindi queste sessioni investigative tramite il phi nella maggior parte dei casi ci permetteranno di scoprire dettagli o informazioni utili che ci permetteranno di proseguire il gioco e scoprire così nuovi tasselli della trama e questo modello evidenzia la linearità che transient presenta e questo non deve essere un difetto chiaramente perché in quanto storia avventura story driven è più che comprensibile eseguire un binario e superare l'ostacolo di turno e andare avanti non è una sfida ludica vera e propria dato che non faremo altro che seguire il corso degli eventi tutto qua e a questo va aggiunto che il gioco presenta anche delle sessioni di hacking in cui comanderemo un cursore all'interno di una matrice e dove dovremo evitare delle difese informatiche cioè saremo come una sorta di virus in cui combatteremo contro l'antivirus tutto qua si tratta di un mini gioco piuttosto banale ma che serve anche per rendere il tutto meno monotono e ripetitivo a tutto questo poi si devono aggiungere alcuni momenti in cui il gioco cambia totalmente natura e qua non vi darò nulla perché è spoiler sono momenti fatti apposta per spiazzare i giocatori quindi per questo non aggiungo altro concludo parlando di un altro aspetto della giocabilità di transient che ho particolarmente apprezzato aspetto che riguarda i puzzle e gli enigmi nel gioco infatti l'unica vera sfida principale è relativa alla risoluzione tanto degli enigmi quanto dei puzzle o mini giochi per enigmi intendo proprio gli enigmi non intendo gli enigmi ambientali ma ma proprio gli enigmi quelli in cui c'è un testo da leggere e dal testo devi ricavare la soluzione parliamo sempre qualcosa di molto molto facile in realtà quindi chi è attempato con il genere delle avventure troverà gli enigmi di transient molto molto facili quindi un po' come è successo anche a me insomma e idem con patate anche gli enigmi che i puzzle che per quanto abbia apprezzato sono più belli da vedere che da risolvere alla fine spesso magari troverete dei tasselli da comporre oppure delle sequenze da eseguire in un determinato ordine quindi nulla di veramente complicato ma più che altro sono meccaniche che servono a spezzare la ripetitività parliamo infatti di puzzle ed enigmi che alla fine sono stati sviluppati apposta per non essere ripetitivi e monotoni dato che appunto ci troveremo di fronte a enigmi e puzzle diversi ogni volta è difficile trovare lo stesso tipo di enigma più volte quindi questa diciamo è una cosa che Stormy Studios ha sviluppato direi egregiamente dato che è una cosa non da poco insomma dato che sviluppare ad hoc ogni enigma e farlo one shot non è una cosa che si può trovare tutti i giorni ecco comparto tecnico allora transient in generale sotto il profilo grafico si presenta sostanzialmente bene anzi direi anche più che bene mi riferisco in particolare al design e al concept in generale perché sia il mondo cyberpunk sia il mondo lovecraftiano sono entrambi stilisticamente belli e a volte capaci anche di meravigliare e soprattutto il mondo lovecraftiano devo dire mentre invece il mondo cyberpunk diciamo viene resa bene l'idea di tutta questa tecnologia che affascina e ammaglia ma che poi di fatto finisce per annichilire e svuotare l'animo dell'essere umano diciamo che Stormy Studios con questo gioco voleva mostrare una visione pessimistica riguardo l'uomo, il suo futuro e il suo rapporto con la tecnologia e in tutto questo l'importanza dell'environment è cruciale perché il setting serve a rendere al meglio questo senso di dolenza e decadenza della civiltà che popola la cittadina di Transient e al di là poi di cosa Stormy Studios volesse trasmettere in Transient non si fa meno di notare la cura dei dettagli diciamo sia sotto il profilo della qualità delle texture ma anche del design e degli asset proprio probabilmente c'è da dire che il mondo dello cyberpunk risulta un po' più scontato ma questo perché ormai estetica e stile cyberpunk ormai sono standardizzate cioè ormai è facile aspettarsi le insegna neon, le luci soffuse, gli innesti, i terminali eccetera quindi capite bene insomma che se uno vuole sviluppare un setting cyberpunk è difficile inventare qualcosa di veramente originale in quanto appunto lo stile cyberpunk è ben delineato alla fine a livello di immaginario e al contrario invece il mondo lovecraftiano concede molta più libertà e ti può permettere di inventare forme e colori senza uscire poi dal contesto di lovecraft e il risultato quindi è che ho trovato la controparte onirica lovecraftiana leggermente più interessante e fantasiosa e qui sicuramente è stata fondamentale anche l'esperienza passata con Conarium dove anche lì Stormy Studios aveva messo in piedi un setting lovecraftiano di vergevole fatture e in sostanza grafica e stile artistico promossi adoro poi tantissimo l'effetto glitch disturbato che si vede chiaramente avete presente quando comunque c'è una disconnessione in cui comunque lo schermo comincia a riempirsi di glitch il disturbo visivo insomma quindi è una cosa ormai inflazionata da tempo devo dire però rimane sempre affascinante e ci sta sempre bene è un po' meno bene invece le animazioni sinceramente le cutscene in cui si vedono dialoghi o comunque generali delle scene si vede che parliamo comunque di una produzione piuttosto modesta penso per esempio alle animazioni facciali di Randolph che sono una roba incommentabile sembra un manichino quasi vabbè per fortuna che parliamo sempre di un difetto che riguarda un aspetto che a me interessa fino a un certo punto soprattutto un difetto anche riscontrabile poche volte all'interno di Transient quindi parliamo di un difetto minore quindi se sarete immersi nell'esperienza e nell'atmosfera di Transient non ci farete caso più di tanto alla fine comparto sonoro allora comparto sonoro nella norma devo dire senza infamia e nell'ode anche se una nota di demerito mi sento di riservarla al doppiaggio in quanto onestamente riferisco al doppiatore del protagonista onestamente il doppiaggio non mi ha fatto impazzire più di tanto forse si poteva fare di meglio colonna sonora colonna sonora nulla di memorabile ma comunque al servizio di atmosfere spesso anche etere penso per esempio a delle sonorità quasi arabbeggianti che ogni tanto si sentono e contribuiscono a dare un sapore molto esotico all'esperienza di Transient in sostanza quindi una colonna sonora di buona qualità e piacevole all'ascolto e un'ultima nota doverosa sulla longevità il gioco, ve lo dico subito, è molto breve considerate che andando con molta calma e senza fare le cose troppo di fretta il gioco è terminabile in massimo 5 rette scarse che non so se sono poche perché nel momento in cui io sto registrando questo log non ho idea di quale sia il prezzo di lancio di Transient però devo dire che se il gioco dovesse essere in vendita a un prezzo superiore a 20 euro io sarei, rimanerei un po' perplesso considerate che Amnesia Rebirth che comunque ha una longevità di tutto rispetto cacchio io lo sto giocando da giorni ancora non l'ho finito mi manca ancora un po' comunque è in vendita al prezzo di circa 23 euro a prezzo pieno quindi 20 euro per un gioco che dura 5 orette che tra l'altro non garantisce neanche una gran che rigiocabilità ci sono comunque i collezionabili sempre i soliti extra che comunque alla fine non ti convincono a rigiocare al gioco una volta finito quindi non lo so e spero diciamo ecco 5 ore che potrebbero andare bene ma ecco state attenti al prezzo perché se è eccessivamente alto potrebbe non valerne la pena e ringrazio ancora Iceberg Interactive per questa opportunità perché è veramente emozionante poter parlare di un gioco in contemporanea alle altre testate giornalistiche quindi sarò anche curioso di capire se quello che ho detto sia in linea con le recensioni uscite da Verisity ecco e niente quindi questo speciale si conclude qua l'appuntamento è al prossimo log che adesso non so sinceramente se sia lo speciale di Amnesia Rebirth oppure no o meglio no in realtà spero domenica di fare un altro report from hell ma questo dipende se usciranno altre notizie interessanti vabbè vi ricordo che il 30 esce esce Little Hope e quindi insomma un mese che si conclude che è ricco di soddisfazioni quindi boh vediamo un po' come come andranno le cose diciamo se ci saranno delle notizie da dire fare un report from hell altrimenti altrimenti non lo so perché poi vi ho detto Amnesia lo sto ancora giocando quindi non so se se sarò pronto per fare uno speciale per questo weekend va bene se volete lasciare un commento su Transient lasciate un commento sulla pagina Facebook sull'account Twitter su YouTube o sul canale Telegram come volete grazie per l'ascolto e l'appuntamento al prossimo log ciao ciao grazie per l'ascolto grazie per l'ascolto grazie per l'ascolto